Bene amici, tra poco o pochissimo l'Inps renderà disponibile online la CU Certificazione Unica 2021 fondamentale per coloro che hanno percepito emolumenti, compensi e redditi erogati proprio dall'Istituto nel corso del 2020. Vediamo quindi chi deve scaricarla, come e soprattutto perché con una novità per i pensionati. Io sono Mr. Lul, vi spiego tutto, sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video del canale e iscrivetevi con la campanella altrimenti perdete tutte le prossime novità. Partiamo! Insomma, entro la scadenza del 16 marzo l'Inps, in qualità di sostituto di imposta, dovrà rendere disponibile la Certificazione Unica CU 2021 per coloro che hanno appunto percepito dall'Istituto redditi a vario titolo, come ad esempio i pensionati, i percettori di trattamenti di disoccupazione come la Naspi, così anche come i beneficiari di CIG, Cassa Integrazione, a pagamento diretto. Per il reddito di cittadinanza, lo dico subito, no, non ci sarà CU perché, anche se si chiama reddito, non è un reddito soggetto a imposizione fiscale. La certificazione può essere scaricata ovviamente online sul portale dell'Inps ed è fondamentale ai fini della presentazione del modello 730 2021, insomma la dichiarazione dei redditi. Dovrete quindi accedere con lo speed o comunque con le vostre credenziali e andare in Prestazioni e Servizi, Tutti i Servizi, Certificazione Unica del Cittadino oppure semplicemente potete cercare Certificazione Unica nella barra di ricerca in alto nel sito Inps. Si può ovviamente fare tutto e scaricare la CU anche dalla app Inps per smartphone. Per i pensionati poi da quest'anno debutta un interessante nuovo servizio attivabile dalla sezione MyInps Gestione Consensi che permetterà di ricevere la CU, come anche il cedolino della pensione, attenzione, quindi molto comodo, direttamente sulla propria email. Per chi invece non possiede le credenziali per l'accesso online, potrà rivolgersi agli sportelli degli uffici territoriali oppure richiedere l'invio della Certificazione Unica direttamente sulla propria PEC, farsi assistere dal CAF, il proprio intermediario patronato di fiducia e se oltreottantenni, titolari di accompagno o indennità speciali, farsi inviare tutto tramite posta grazie al servizio sportello mobile. Insomma, detto questo, io spero che il video vi sia stato utile. Fatemelo sapere lasciando un bel like per sostenere appunto il video e il canale. Mi raccomando, iscrivetevi con la campanellina, altrimenti perdete tutti i prossimi aggiornamenti. Insomma, noi ci vediamo dopo. Grazie, a presto da Mr. Lul. Grazie a tutti.